La preparazione del pugile per me c'è due mesi. Anche Canelo una volta parlando ci mi fa perché lui in due mesi si prepara. Superdisciplina, duro lavoro, alimentazione supercorretta, hai giusto qualche garrottino ogni tanto per non s'assassi mentalmente ma... sia mentalmente che fisicamente mi ha evitato un sacco il programma perché mi hanno distratto, è un momento duro per tutti, quindi sarà la forma evitata. Buonasera. 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 Un altro tampone anche domani? No, no, no. Ah bello. Uno rapido ora. Spettacolo. Buonasera. Ciao. Buonasera. 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 Ciao. Il microfono tengo io? Dilo tu. Esatto. Sono felicissimo perché, come ben sapete, non ho ne quattro mesi che non salgo sul ring perché non sento questa emozione, questa adrenalina, quindi è un momento felice, un bel momento. Ho proprio il bisogno di salvere sul ring, di sentire queste emozioni qua, quindi molto felice. Credo che sia un'artelena, un'altra parte. Penso sia un giudice assolutamente forte, imbattuto, però voglio assolutamente dare il meglio di me per quella che sarà un match molto molto caldo, un'artelena, una battaglia. Train so hard, I mean, the hard work is my talent, that's what I think. and I really wanna, I mean, I came from nothing. So, I came from nothing, so what I have now, I really wanna take care about that and I know I gotta train so hard. I do. I gotta take care of that, I can't be told. I could do better, but I could do better, but I can't be told. I do better. 75.9 kg Scardina Scardina 75.5 kg for Scardina 75.5 kg 75.5 kg C'erano tutti i nemici sugli spatti di Ultras di Frosinone, di Panone sugli spatti perché io sono Ultras e comunque io esco e loro agitano proprio e io sono ingasadissimo perché a me queste cose brutaliche hanno capito non mi spaventano allora arrivo sul ring e il maestro dice mi raccomando quello che abbiamo costruito prima di ripresa tutto il consale terzo round mi spacco ciao 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 ciao